La svolta è arrivata oggi. La notizia è che la pista di Bob Slitino e Skeleton per le Olimpiadi Invernali 2026 sarà a Cortina, nonostante il parere contrario del CIO, su quale anche il pressing delle federazioni internazionali avrà un certo peso. Dal prossimo 19 febbraio l'impresa Pizzarotti aprirà il cantiere a Ronco. Stamattina sarebbe stato sottoscritto il contratto con Simico, pur se nel sito del Ministero la procedura risulta ancora aperta e in aggiudicazione. In una nota diffusa a Lanza si legge la soddisfazione del ministro Salvini e del ministro Abodi per la scelta che mette un punto fermo e attesta l'estrema determinazione di questo governo di concludere al meglio in Italia tutte le opere in vista dei giochi. Ma è una lotta disperata contro il tempo che si accorcia terribilmente non solo per costruire la nuova Eugenio Monti. Nelle stesse ore in cui Salvini gioiva, dalla Camera di Commercio di Sondrio a margine di un'assemblea, il collega di partito e di governo Giancarlo Giorgetti ha affermato da essere quasi pentito di aver lavorato per ottenere le Olimpia di Milano Cortina 2026. In men che non si dica le sue parole hanno fatto il giro del paese e lo scompiglio servito su un piatto d'argento. Dal 2018 al 2024 sono passati diversi anni, ha detto Giorgetti, che ha proposto di mettere un bel tabellone elettronico all'ingresso della Valtellina che indica quanti giorni mancano per renderci conto del senso di urgenza necessario. Giorgetti che nel carroccio è un pezzo da 90, poi corretto parzialmente il tiro sul pentimento, ma il senso della dichiarazione non è cambiata, bisogna correre di più e recuperare, ha detto il titolare dell'economia. Italia Viva e Verdi a sinistra sono andati a nozze, i primi sull'incapacità del governo di gestire un evento così importante, i secondi sui lavori per la pista definita una colata di cemento per accontentare la Lega. Forza Italia, al contrario su X, ha rivendicato il suo apporto fondamentale per sventare l'accordo sottobanco che avrebbe portato allo svolgimento delle gare a St. Moritz. Con un avvertimento, continuiamo a vigilare.